Preghiera per chiedere aiuto a Padre Pio nei momenti difficili Padre Pio, hai ricevuto dal Signore la grazia di compiere cose straordinarie. Ti chiedo in preghiera di concedermi, per Sua intercessione, l'aiuto per superare questi momenti difficili. Padre Pio, fedele servitore di Dio nostro Signore, la Chiesa ti onora come generoso dispensatore della misericordia divina. Aiutami, vieni in mio soccorso e in particolare liberami dalla presente afflizione. Oh Padre Pio, sei sempre stato conforto per le miserie umane. Hai concesso consolazione e pace, grazie e favori. Degnati di ascoltare il mio lamento. Ho tanto bisogno del Tuo aiuto per risolvere questa situazione difficile che sta mettendo a dura prova la mia vita. Dolcissimo Padre Pio, aiutami in questo periodo di difficoltà in cui gli sforzi appaiono vani e il mio piede vacilla. Ti supplico, guidami e incoraggiami, non abbandonarmi nella mia disperazione. Padre Pio, cerco in Te la forza quando sono afflitto. A Te ricorro per cercare rifugio e protezione. In Te il mio coraggio e la mia sicurezza, il mio punto d'appoggio, la mia gioia di vivere. Conosci il mio passato, presente e futuro. Nulla ti è sconosciuto. Se sono indegno, aiutami a pentirmi e a espiare i numerosi peccati. Padre Pio prega con me per invocare il Signore, affinché io sia meritevole di essere esaudito e possa ottenere dall'Altissimo tutto l'aiuto per risolvere questo momento difficile. Riempi il vuoto della mia vita. Colmala di gioia e speranza. Oh Padre Pio, santo tra gli uomini, intervisto.